Si è rotto il discorso, riprendiamolo Presenta così, baiocco Ce la farà a chiarire un concetto? Ma perché Zygman che non ho capito? Perché fai con lo giustamente? Quando voi cantate Zygman Ti emozioni solo quando canti Zygman Io non ci rinuncio Ci sono sforzato Non mi emoziono più Non mi emoziono più Candando Zygman Perché gli altri penso che Se qualcuno a casa ha capito Cosa, perché Zygman Vince un milione di dollari Che gli dai tu E' un attimo del discorso E' normale che mi piacerebbe una Meccan da G E si spazientisce Perché la gente non capisce Ma sai che ha detto Michael, ti hai dimenticato di chiedere alla gente Se quando vali tu mettono i sottotitoli Ci abbiamo provato Quando tu mi dici Quando si vedi una cosa torta La devi dire, sclerarla Ti prendi parola Non vedendo la sigaretta Giustamente Assolutamente Hai capito cosa dico Se ti ridico Poi lo faccio in maniera come Se ti ridico E ti basta Te rompo i cuglioni È stessa cosa pure Però i cuglioni L'hanno detto Per lo scambito Cioè se non stiamo qua a fare Perché 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 Lasciate di fare I giudici E altre persone Quando Qualche problema Con la persona Si risolvono Si risolvono Proprio così Non so se si risolvono Non è convinto neanche lui stavolta Un po' di dubbio di arrivare C'è un messaggio per lui E lui lo legge No Alberto quando parla C'è bisogno della pagina 7 7 Vanno già detto Ce n'è tanto di bisogno Ce ne vogliono anche altri 3 di 7 Ma non bastano Ciao Imitazioni di Alberto Fatte da Michael Sentiamo Il provino Se lo immagina così Pulisci tutto Alberto la donna della pulizia Ce l'abbiamo Ciao 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 Certo Che lavoro fai amore? Ci siamo eh Hai rapporto con le donne Ma 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 Cosa Sì Sì Ma È tanto una parola Che si capisce la mia Eh Eh Daia Cosa E voi Amaro Marite Ti darebbe fastidio Tante Vabbè È un mimo È diventato E come la prende Alberto Una bottiglia che cade Vai Molto meno